Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, andiamo a Padova con 50 medici dell'ospedale cittadino che, diciamo così, hanno dimenticato più volte di timbrare il cartellino e sono stati multati, hanno creato un danno economico tra i 100 e i 150 mila euro. Una cinquantina di medici dell'ospedale di Padova sono stati multati dalla direzione per non aver timbrato il badge nelle giornate in cui, dall'attività istituzionale, passavano alla libera professione svolta tra le mura dell'ospedale stesso. L'azienda ospedaliera dà ai medici risorse e strumentazione per tenere le loro visite in cambio del 20% sulle fatture emesse. I multati avrebbero più volte omesso di passare il badge per ufficializzare il tutto. I fatti risalirebbero all'anno scorso e riguardano in particolar modo i professionisti del ramo di chirurgia. Il danno stimato si aggirerebbe tra i 100 e i 150 mila euro. Curioso che nessuno dei medici sanzionati abbia fatto ricorso contro le multe decise dal comitato di garanzia dell'azienda ospedaliera. Sempre da Padova continua il debate, continua la discussione sul caso della donna di 65 anni, operatrice socio-sanitaria dell'ospedale.